benvenuti su canadiste nico io sono nico io sono ste e continuiamo con la nostra vi abbiamo lasciato un'altra volta in questo ospedale buio adesso vediamo un po dove dobbiamo andare con il nostro bellissimo fusibile anche perché c'è rimasto in mano sto coso non possiamo aprire niente non possiamo prendere un reale abbiamo un fusibile come per dire un poco questo che ci faccio questo che ci faccio no non si sa chiave autopsia quindi possiamo aprire qualche porta assolutamente vediamo che porta possiamo aprire quella della sala delle autopsie che non mi ricordo dov'è che non so quale sia ovviamente però vediamo quella porta non si apre no lì c'è il coso blu da questa porta qui l'avevamo aperta se non mi ricordo dove ci portava ok era qui dove abbiamo iniziato a vedere le prime i primi pubbini sicuramente c'era una porta chiusa mi sembra prima ce n'erano vicino a no ma proprio chiusa con la chiave è dato sembra che questa chiave non serva più la butta ecco forse lo dice come il regalo che noi l'altra volta ci lamentavamo quindi la possiamo buttare però che per tutte le altre cose con questi sono due che ci vogliono fare malissima usiamo il lancio a granate o la mp5 ma io userei le mp5 ma si può cambiare in massa a sì sì si può perché è vero che questo qua aggiunge il tranquillante però è anche lento da dio io direi che non è un po' di sapone porco giuda tiramelo giù in fretta e furia non me l'ha tirato mi fa il giro da dietro no ahhh mi tolgo si sciapolata morbida ma che poi che cos'è un ratto volante che schifo è è strana che e via e vedi che questo mp5 mi dà più respiro riesco a mettiamo giù il pudino al caffè ok sta vicino poi lo scasso proprio prendiamo un po' di punti un po' di medicina quello che riusciamo io butterei la chiave ma l'ha già buttata ah te l'ho già chiesto si l'ha buttata lei in automatico vediamo l'inventario abbiamo un sacco di cure eh lo so però abbiamo un sacco di cure non mi piace quando abbiamo un sacco di cure per prima o poi servirà adesso vuoi lasciare l'oggetto vuoi sostituire eh beh lo sostituiamo e lasciamo una medicina 1 e prendiamo un arnese che magari potrebbe servire ok ecco io si entra incredibile dove siamo capitati? non so ma sicuramente c'è qualcuno che ci vuole asfaltare ritroviamo un ratto bipedo un ratto bipedo questa volta è zampetto bellissimo io ne prenderei uno al guinzaglio ti prego ne voglio uno che carino fa anche con le manine ahia ti prego questo ti accadena no l'hai eliminato subito ci stiamo avvelenando come se non ci fosse un domani quindi ci lavoro cercando eccolo lì adesso se riesco qua qua quando mi fanno la sciapolata morbida mamma mia siamo lenti a ricaricare la roba per sparare eh ma quello non è che si può far tanto no ma non aumenta con il livello no quello no in teoria potrebbe aumentare un pochino ma ok siamo aumentati il livello eh sì l'active time esatto che non possiamo modificarlo noi nel senso si modifica da solo che solo con il livello quindi ok qua c'è c'è un corpo carbonizzato tra l'altro ok cosa c'è in mano? inventario pieno però questo c'è sicuramente qualcosa quindi io direi prendi una medicina 2 braveso ci diamo una rubatina scheda blu eccolo qua ci si arriva tantissimo ci si arriva la scheda blu queste cose sono inventario pieno di nuovo situiamo un'altra medicina maglia B1 questa credo sia la difesa forte contro attacchi di stato quindi contro il veleno prova a vedere con un arnese se puoi vediamo allora vediamo innanzitutto com'è no non è buono però io forse posso metterci l'abilità vediamo posso prendere l'abilità sarà mosso e maia vi userà però sì sì facciamo fatto quindi abbiamo adesso l'antibocetta esattamente l'antibocetta quindi abbiamo sia usa medicina quando i pv sono bassi ecco ecco lì questo è veramente una gran cosa e poi resistenza contro il veleno così ogni tanto dobbiamo usare meno detox possibile per cancro non abusate di detox non abusate di detox attenzione la farmacia no questo sarà un altro fusibile ma secondo me si può aprire fusibile eccolo lì prova a vedere se si apre no non si apre niente tutte ste croci tutte ste croci ma tanto che di medicina ne abbiamo quindi quindi fusibile 2 ce l'abbiamo scheda magnetian blu ce l'abbiamo e dobbiamo andare via esattamente quindi prima che arriviamo qualcosa tra di noi tra noi e la porta ecco e sono di nuovo attenzione due apemaie e un budino no 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 e poi che schifo cos'è miele mi toglie miele mi toglie miele mi toglie è zero mi fa non mi avvelena vai alle apemaie arrivo che schifo sono ste cose si ma tanto non mi fanno nulla perchè io sono resistentissimo contro il veleno quindi non mi fanno nulla prima invece ci avrebbero fatto male prima ci avrebbero fatto male ok apemaia è morta manca ancora un colpicio stop ecco prendiamo medicina medicina e beh scusa ma essendo uno ospedale ovvio ovvio però l'armeria non è che ha funzionato uguale l'armeria no ovunque noi di munizioni veramente ne abbiamo agli osa non capisco come mai ci tenono questo manganello e boh si vede che in un punto del gioco ci tolgono tutto l'equipaggiamento ci rapiscono ma guarda che se ci fai caso noi spariamo tipo 15 vendi colpi ci lasciano ci cavano tutto cioè tipo quando uccidi il boss comunque spendi che ne so 50-60 proiettili però non non ti dà mai i proiettili a meno che non sia poi la fine se me questa chiave non serve a più la butta da sola quindi se non ha buttato quella del teatro servono ancora comunque ce l'abbiamo ce l'abbiamo meglio negli oggetti maia aspettami non lasciarmi da sola ok maia allora è veramente una maia o maia maia attenzione l'M10 M10 7 colpi vediamo allora l'M10 ha meno attacco meno range meno bullet però l'M10 ha delle caratteristiche interessanti quale è 7 colpi e fuoco casuale 1,5 ma se noi prendiamo i 7 colpi e li mettiamo su quell'altro fondiamo tutte le armi facciamo un mega cannone gigante io proverei a usare prima questo M10 e vedere com'è senza fondere che potrebbe essere utile che l'M5 lo fondiamo con quello eh sì sì esatto perché qua è già 7 più la guarda caso guarda caso c'è subito così vediamo subito che cos'è questa cosa enorme cattivissimo tra l'altro ma è una persona ma non lo so c'ha la testa di eh eh diritto è veloce questo spara è veloce però fa danno pochissimo fa pochissimo danno fa molto poco danno però effettivamente spara tra l'altro a random in tutti i punti se vedi non posso perché io potrei colpirlo adesso ti faccio vedere che potrei colpirlo in più punti del corpo tra l'altro è molto più lento l'M5 vedi posso colpirlo in più punti e sparano in testa però mi fai più danno perché scegli dove sparare quello si ma io non lo so li terrei tutti e due così bravo io li terrei tutti e due magari sai cosa puoi fare? l'M10 lo unisci con il lancio a granate non so se si possono unire essendo un fucile l'altro comunque lasciamo una medicina 1 e prendiamo un'arnese forse la potevi utilizzare forse la potevo utilizzare e dice ma si io la utilizzo la potevo rimetto l'arnese utilizzo la medicina e mi riprendo l'arnese adesso prova a vedere se puoi fondere allora vediamo io posso cos'è che mi vuole di fondere? l'M10 con l'M79 sì lo posso fondere ma cioè non ci guadagno nulla anzi mi tolgo il fatto che di avere un lancio a granate che mi rallenta i nemici e poi e poi tra l'altro l'M79 ha zero colpi infatti secondo me sono colpi diversi comunque vabbè io per adesso andrei avanti così anche perché ce la stiamo cavando direi molto bene quindi l'inventario è pieno ecco mi sembrava strano che non avessimo di questi problemi una medicina 1 no una medicina 2 ok usiamo medicina 2 e il fusibile 3 ok non potevamo non prendere non potevamo non prendere abbiamo recuperato così un porno a microonde acceso tra parentesi senza non so come si ancora esplode quindi tre fusibili possiamo metterci una giacca fa freddo tre fusibili non so dove li devo mettere effettivamente però abbiamo questi tre fusibili e beh lì c'è un pannellazzo per esempio pannello a caso oh no l'interruttore principale è staccato e mancano alcuni fusibili ok mi si dice un fusibile vai si si abbiamo tre un'interruttore principale è staccato prima no due eccolo lì tre fusibili ripari fili ripari fili eh si perché dai di corrente ma adesso ci rimaniamo ci rimaniamo malissimo ecco lì ripari fili adesso dove dai energia va là che ci abbiamo un'azienda di elettricisti va ecco lì è diventata una musica esatto andiamo di qua non siamo ancora andati qua c'è l'ascensore ah siamo tornati dove gheravamo prima ci sono i due ascensori con il pisciatoio per bere ah si il pisciatoio per bere uno giustamente allora vediamo come si comporta io voglio vedere come si comporta l'M10 con un con un un avversario normale aia benissimo beh direi che direi che comunque si è vero che fa meno danno ma ha anche il suo perché questa cosa abbiamo bisogno di una tessera verde abbiamo bisogno di una tessera verde però adesso che ho dato energia posso usare gli ascensori giustamente allora mi sa che dobbiamo tornare di die dobbiamo tornare all'ascensore sì è qua questo questo sarebbe l'interruttore sì qua c'è l'interruttore perfetto perché noi se ben ricordi volevamo salire e lei ci ha fatto scendere quindi l'abbiamo raggirata l'abbiamo gigioneggiata l'abbiamo gigioneggiata l'abbiamo gigioneggiata che c'è anche fatto cadere addosso le scale sta abbastanza però noi usibili e via sta stregaccia a te due bambine due bambine addirittura maya e dio due bionde poi troverai due bionde gemelle gemelle hai capito e si è aperta tra l'altro la porta la porta della corsia vabbè qui dovrebbero essere quattro turni a favore nostro no così fargli un pezzo a te spara random ahiaiaiaiai si non è che si sta amassando me nei multi preferirei prendiamo prima di tutto pura veleno ma non avevamo la cosa contro il veleno eh sì però non funziona non funziona sempre credo perché però non funziona sempre, evidentemente c'è una percentuale di non riuscita della prevenzione ok cambia di epi, eccolo qua adesso puoi sparare per piacere gentilmente al primo che ti capita sottomano e di nuovo mi aspetta vediamo adesso si toglie, sono solo munizioni va bene anche perché abbiamo consumato un po' di io direi che ci possiamo anche curare e via andiamo in corsia vediamo che cosa c'è cosa vuoi ci sia? si, gente che ci aspetta a buddini aperti no, c'è il ratto quello che voglio io per casa e l'appe maia gigante l'appe maia madonna il ratto che vuoi per casa però spacca è bellissimo, guarda che camminata fashion haven in fashion haven ratazzo ma c'è anche l'on dennergetico mi sparo una roba strada, aiuto ma pensa a testo ratazzo c'è anche la bomba in seguimento esatto, è incredibile il ratto è pieno di sorprese non so cosa farete voi ma io me la squaglio ma non sei messo benissimo, io starei signora Nusembaum che è la vostra medicazione che mi sembra una medicazione e se sarò morto effettivamente stai bene grazie comunque vieni intrappolata in altra stanza vuoi cominciare a riuscire, certo figurati, io sono qua, sono qui a poi, curami non c'è qualcuno se vuoi un medico era meglio quella della stazione di polizia era più almeno carina ci aiutava ci curava invece nulla su questi ospedali di occhio ecco ah ecco ha dovuto creare otto nemici sto coso mamma mia li confonde ma è altra parentesi di confondere, noi non avevamo quella cosa confondi gli avversari gigioneggia l'avversario spadroneggio confondi l'avversario quindi si è rincoglionito bellissimo il putino rincoglionito è bellissimo eh, muori si, però se ti inseris si è rincoglionito si è risconfuso di rincoglionirsi allora quella confusione gliela possiamo dare quando abbiamo qualche boss confusione io non so se funziona la confusione con i boss no passiamo di livello abbiamo anche velocizza ricarica e movimento finalmente però è un'abilità quindi la dobbiamo usare ce la dobbiamo tirare addosso praticamente ecco 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 questa è la stanza che l'abbiamo vista questa è la stanza io ho caldo ok io so di essere già stata qui ma perché cosa facevo qui vediamo se si scopre qualche retroscena eccoci eccoci la bambina a sinistra la bambina a destra doppio passo due bambine attenzione il dottor clamp giochi di immagine sto per sboccare sinistra doppio destra un ascensore un corrido c'è un ascensore l'entrata di prima l'entrata ancora la prima il giapponese non c'era il giapponese non c'era eccola attenzione l'infermiera che dovevamo salvare pensavo di essere spacciata grazie io ci sei stata aiuto puoi ricambiare dicendomi dove conducono le porte che stavamo dicendo ascensori tra parentesi sta l'infermiera esatto al magazzino dell'ospedale è là dove teniamo le bombole di ossigeno non è la nostra vita di azoto liquido usate azoto liquido non lo so ecco prendi questa chiave da dove l'era tirata fuori questa chiave ma dai ma cosa sei la mucca della parmalat la lola scheda verde grazie benissimo ragazzi io sulla scheda verde su questa mucca parmalat vi saluterei ci vediamo con il prossimo video dove andremo ad aprire questa porta con la scheda verde assolutamente e vediamo dove andiamo a parare con questa scheda verde vediamo cosa succede anche perché mentre vabbè io io mi curerei ne approfitto per prendere la giubba comunque a questo punto direi che per questo video è tutto ma non è vero aspetta gli facciamo uccidere ah gli facciamo uccidere anche sì dai facciamogli uscire questi tre budini sì tra l'altro sto anche morendo sì prima che moriamo ci salutiamo con una morte bruttissima una morte bruttissima fammi curare eh io mi prenderei anche magari una medicina 2 sì tanto guarda che adesso guarda come guarda come me la prendo guarda come muoio guarda come muoio guarda come muoio il veleno ok non posso adesso devo prima ricaricare eh mi togli un turno mi togli un turno attenzione la melma spara ancora un colpo ci volevamo lasciare in maniera tranquilla invece ci stiamo lasciando con una barra siamo lentissimi perché ci abbiamo del tremolio addosso sì mi ha tipo smutato quella roba beh ecco attenzione confondi un colpo lì due colpi qua bam bam aia aia confondi la pe maia confondi la maia confondi la maia ok via di budì eh scoppia non riesco a correre sono messo in mezzo mi levo no non mi levo meno male che non c'è vero grazie a dio anche perché ci hanno fatto malissimo ok e benissimo allora ragazzi a questo punto ci salutiamo per davvero e se vi è piaciuto il video un bel pollice in su e lasciate un commento per dire la vostra condivideteci sui vostri social network un saluto da nico e un bel saluto da ste e ci rivediamo sul canale di senico ciao esagerati ciao 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 Grazie a tutti.